ciao a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale break tech finalmente siamo pronti per parlare di un nuovo dispositivo nuova recensione e parliamo di lui lo xiaomi cv4 pro un telefono che qua da noi non arriverà o meglio se arriverà arriverà su un altro nome di solito questi sono prodotti che arrivano sotto la nomina nome di light comunque dovrebbero essere di fascia medio alta ma non ne sono sicuro se lui che lui uscirà qua da noi perché ha delle caratteristiche super top perché verrà adesso valore accotto vi dirò tutto quello che ho trovato in pro e contro di questo dispositivo prima di iniziare lasciate un bel like iscrivetevi lo sapete qua sotto tutti i link che vi servono per venirci a seguire su tutti i social soprattutto sulla community di telegram e vi ricordo di seguire i ragazzi gli amici dello specialista qua sotto trovate la pagina importantissima lo specialista shop dove ogni giorno vengono caricate veramente tantissime offerte offerte da urlo quindi mi raccomando seguiti i ragazzi dello specialista ma adesso penso che sia arrivato il momento di raccontarvelo quindi facciamo prima partire la sigla e poi ci facciamo una bella chiacchierata di questo mostriciattolo perché ragazzi sì mi è piaciuto tantissimo e ha delle particolarità molto interessanti allora adesso andiamo a togliere la cover e ora ci facciamo una chiacchierata di questo telefono ci facciamo una chiacchierata ve lo mostro più da vicino nei dettagli andando e partendo proprio dall'estetica perché ragazzi lui è particolare lui è qualcosa di unico è qualcosa che ad oggi sul mercato secondo me manca e perché si parte subito dalla caratteristica principale ovvero l'estetica uno smartphone che non pesa 200 grammi pesa 180 grammi perché lui la variante special edition quella con la finitura in pelle dietro che è bellissima questa rifinitura che siccome è plastica non è vetro mai lavorata con questo effetto luce che a me piace da morire veramente molto molto bello la variante normale è pesante 179 grammi quindi ancora più leggera ma quello che fa la differenza del mondo è sicuramente la quanto sia sottile lo smartphone perché lui è sottile cioè spesso solo 7,45 mm ragazzi è un foglio di carta considerando che qua sotto comunque abbiamo tanto hardware con un'autonomia e una batteria anche da 4700 mAh quindi non è una batteria piccola e piccolo spoiler dura tantissimo ma guardate quanto è sottile guardate quanto è bello anche la parte dietro mi piace questo blu che non è così gigantesco anche se non è messo e posizionato in centro a me piace a me piace molto tra l'altro bello che sotto al vetro c'è questa rifinitura tutta brillantinata una cosa che a me piace molto bello poi tutto il frame che piatto questa cosa anche ottimo nell'utilizzo perché quando lo si va a utilizzare si tiene in mano è comodo ed è stupendo anche il display che non è curvo soltanto la parte tutto cioè del vetro è curvo 2,5 di perché poi gli spiegano vedete è praticamente flat questa cosa e io l'ho amata è veramente comodissimo sopra abbiamo lo speaker che insieme nella parte sia superiore che inferiore quindi abbiamo un audio stereo so più superiormente abbiamo anche di infrarossi che non guasta mai da queste parti tasto accensione spegnimento volume tasto per volume poi sotto abbiamo la type c è l'ingresso per la micro sd da un altro lato invece abbiamo completamente pulito non ci sono tasti insomma lato costruttivo promosso a pieni voti bello perché ragazzi è qualcosa di nuovo è qualcosa di nuovo bello che si tiene bene in mano super leggero super sottile veramente lavoro eccezionale buono anche il comparto display perché hanno montato qua sopra un display stupendo che si vede da dio sotto la luce del sole con una densità di pixel anzi una risoluzione direi strana che non si vede sempre perché 1,5 k plus quindi una risoluzione che non è un 2k non è un 4k ma non è neanche un full hd plus quindi è qualcosa di che va in mezzo no queste risoluzioni la ciccia che ha 3000 annizie di picco di luminosità e lui sotto la luce del sole si vede divinamente ragazzi si vede veramente bene un faro non dà problemi buone anche le impostazioni del display dove si possono andare comunque a cambiare i colori tutto quello che vogliamo tra l'altro è un display a 120 hertz quindi ideale anche nell'utilizzo ad esempio del gaming e devo dire che mi è piaciuto quindi un bel pannello veramente un bel pannello ovviamente amoled quindi buon lavoro da parte di xiaomi questo è il telefono che poi porta delle novità assolute sul mercato smartphone dove il primo in assoluto è il processore nell'unboxing io ho fatto un errore perché vi parlavo di uno snapdragon 8 gen 3s ma invece sarebbe lo snapdragon 8s gen 3 un processore nuovissimo di casa qualcomm che non è più potente dell'otto gen 3 ma è forse meno energivoro sempre 4 nanometri ha una potenza di 3 gigahertz quindi non supera la potenza dell'otto gen 3 ma è un qualcosa di nuovo comunque che va a utilizzare forse meglio sia le temperature che i consumi e ve ne parlerò dopo lui oltre a questo super processore nuovissimo che troviamo sul mercato il primo che arriva insieme a motorola lui però non esce quei italia quindi lui è già uscito in cina quindi già comunque in vendita ecco abbiamo poi le memorie veloci ufs 4.0 lpddr 5x e quindi veramente parliamo di un super top di gamma il tutto poi si va a amalgamare alla perfezione con lato ricezione quindi tutti i sensori che sono stati messi qua sopra perché anche qua c'è una novità io me la sono scritta perché sono cose nuove nel senso che non avevo mai visto partendo dal vabbè abbiamo wifi 6 bluetooth 5.4 wifi 0 problemi bluetooth 0 problemi all'nfc appunto come abbiamo visto gli infrarossi lui non ha nessuna certificazione quindi questa cosa manca non ha la ricarica wireless però la ricarica a 67 watt veloce e lato ricezione è ottimo ma è ottimo perché lui ha una particolarità perché sulla ricezione lui ha un chip che si chiama Xiaomi Sarge 7T1 che va a migliorare il segnale praticamente della rete e questo fa sì che abbiamo un segnale veramente ragazzi ottimo io l'ho utilizzato in questi giorni come mio telefono principale devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema buona la qualità in chiamata dall'altra parte ci si sentono bene il volume buono l'unica pecca è il volume per quanto riguarda il viva voce dove non è altissimo quindi anche lì gli speaker sì lui ha un audio stereo ma non è così forte l'audio quindi qui siamo nella fascia media diciamo siamo più o meno nella normalità ecco non c'è nulla di plus per quanto riguarda l'audio però la ricezione è buona lui prende bene non ha nessun tipo di problema dovrebbe avere anche la banda 20 quindi anche sotto quel profilo ottimo lui arriva dalla cina hyper os ovviamente rom cinese non ha la lingua italiana quindi vi consiglio se lo acquistate sui vari siti che vi lascio qua sotto in descrizione scaricate subito set edit così mettete la lingua italiana su tutte le varie applicazioni lo potete utilizzare sì si può utilizzare in maniera ottima anche qua da noi senza nessun tipo di problema perché comunque non si ha problemi né nella ricezione delle notifiche né tantomeno per quanto riguarda la sim quindi si può fare chiamate non ci sono problemi funziona il pagamento nfc funziona tutto ragazzi l'unica cosa non ha la lingua italiana inserita all'interno tutto lì mettete set edit e ce l'avete sulle applicazioni senza problema parliamo poi di autonomia prima di adentrarci poi a parlare del comparto fotografico che anche lì ci sono delle novità batteria appunto come dicevo 4.700 mAh dura tantissimo ragazzi ci fate un giorno pieno con un utilizzo super intenso la cosa che a me è piaciuta che lui non scalda nonostante sia così sottile lui non scalda mai ma proprio mai ragazzi zero questa cosa me l'ho apprezzata buono anche nel gaming veramente molto molto veloce uno smartphone velocissimo uno smartphone super veloce che funziona bene che non scalda che non ha mai lag in puntamenti strani quindi un vero e proprio top di gamma ragazzi senza se senza ma parliamo poi del comparto fotografico qui abbiamo lenti laica quindi anche qui l'azienda ha voluto puntare forte pure nel comparto immagine quindi per quanto riguarda la fotocamera foto e video inserendo poi un sensore in molto particolare da 50 megapixel come principale che è il sensore light antar 800 un sensore che va a catturare molta luce e devo dire che mi ha convinto perché negli scatti tra l'altro è stabilizzato abbiamo tre sensori questo quadro principale da 50 megapixel poi abbiamo l'altro da 50 megapixel uno da 12 megapixel e devo dire che il sensore principale scatta bellissime foto le state vedendo sono foto veramente buone soprattutto di giorno lui si comporta bene di notte mi ha stupito perché anche di notte comunque ha una gestione dei colori che funziona lui ha anche un chip dedicato nell'immagine che va a diciamo migliorare il post scatto e mi ha convinto ragazzi non sarà un 14 ultra non sarà un super camera phone ma al prezzo che vi dirò alla fine del video di questo smartphone ragazzi veramente non troverete di meglio fa foto ottime tra l'altro buono perché davanti il telefono monta una doppia cam in questa vedete che c'è la pellicola pillolina qua sopra dove queste due cam sono da 32 megapixel servono anche per lo sblocco 3d quindi sicuro con il volto fotocamere che devo dire mi hanno convinto quindi anche foto selfie super promosso come smartphone buoni anche i video che registra video fino all'8k devo dire tutto sommato un telefono che mi ha convinto ragazzi mi ha convinto veramente scusate i video registra fino all'8k 4k a 30 fps quindi non raggiungiamo il 60 fps però ripeto è uno smartphone che mi è piaciuto mi è piaciuto anche lato foto immagine video sono stabilizzate avete visto ho fatto la recensione dello show del vivo xfold 33 pro l'ho registrato totalmente con questo telefono e devo dire che la qualità in 4k mi è piaciuta tanto quindi buon buon lavoro insomma uno smartphone inedito uno smartphone che non avete mai visto qualcosa di nuovo sul mercato ecco ci voleva perché lui si fa distinguere cioè va proprio controcorrente è diverso da tutti ripeto il suo plus secondo me è l'estetica perché ragazzi così sottile così leggero con un bel display con un'ottima autonomia il fatto che sia comunque molto completo sì ci sono delle mancanze non ha la certificazione ps e non ha la ricarica wireless però lui la ricarica veloce che carica veramente veloce 67 watt cavallata e non gli manca praticamente quasi nulla ed è un bel dispositivo tra l'altro allo sblocco sotto display di sblocco con il dito sotto display che devo dire buono però ripeto avendo lo sblocco 3d col viso siamo a posto perché non si hanno problemi anche a sbloccarlo di notte in condizioni difficili insomma mi ha veramente convinto un bel dispositivo se siete interessati ad acquistarlo qua sotto vi lascio il link lui in cina è stato lanciato con la variata lanciato con la variante base ad un prezzo sotto i 400 euro una cosa allucinante questa variante costa super giù 4 80 4 90 capite bene che per un telefono che arriva sul mercato con il nuovo processore qualcomm con tutte queste caratteristiche anche un buona camera phone quindi buone ottiche per quanto riguarda l'immagine è difficile volere altro ecco è veramente un bel dispositivo peccato che non escono qua da noi ogni volta è sempre quella la pecca più grande però devo dire che se questa cosa non mi spaventa il fatto di non avere la lingua italiana perché poi lui funziona perfettamente qua da noi io ve lo straconsiglio perché costa poco ed è un top di gamma questa cosa è molto molto interessante molto particolare che non si vede ormai più in giro devo dire che lo posiziono nella classifica dei miei telefoni principali insieme alli q12 perché lui mi è piaciuto veramente tanto ragazzi è super super comodo per questa recensione è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like se vi è piaciuto il video qua sotto tutti i link qua sotto lascerò anche il link per acquistarlo e seguite i ragazzi dello specialista perché se siete interessati acquistano un telefono volete farvi valutare il vostro qui sotto c'è il link della pagina lo specialista shop dove potete comunicare direttamente con i ragazzi e vedere tutte le varie offerte che ci sono ogni giorno parte veramente bomba per questo video è tutto noi ci vediamo alla prossima io sono fabio da break tech e dal cv4 pro di show me veramente ottimo lavoro da parte di show me bello